Benvenuto a Medeo, allora siamo qua, siamo arrivati qua finalmente a Dubai e raccontami un po' come siamo arrivati a questo punto, perché hai lasciato il calcio, perché ti sei dato al business al 100% e raccontami un po' della tua vita, come sei arrivato fino a qua. Allora, da un punto di vista imprenditoriale in realtà ho iniziato già prima di fare questa scelta, è qualcosa che ho portato avanti da diverso tempo, ho iniziato rivendendo abbigliamento, scarpe, poi ci sono anche gli articoli che dicono che ho dormito per strada davanti a Storm Island a Torino per prendere appunto un pezzo da rivendere poi fuori dal negozio, quindi la mia attività imprenditoriale è iniziata in realtà così, a 16-17 anni, perché? Perché avevo questa fame di indipendenza economica dai miei genitori, comunque arrivo da una famiglia che sta bene, nel senso non è una famiglia come magari tanti possono dire in base alla loro storia che sono arrivati da una famiglia povera, io invece ho stato molto fortunato da quel punto di vista, però volevo comunque essere indipendente, non ho mai chiesto niente ai miei genitori per quel motivo lì, ho iniziato così, poi sono passato da un punto di vista sempre imprenditoriale, intanto sto facendo le giovanili della Juve ai tempi, ho fatto 9 anni di giovanili della Juve, e poi sono passato da rivendere scarpe e abbigliamento ad aprirmi il mio primo negozio online all'età di 18 anni, aprì la mia società in Italia perché prima non potevo a causa l'età, e i miei primi conti, le mie prese cose, ho iniziato a fare i primi soldi online, con un negozio, un e-commerce che vendeva buste per la cucina, quindi avevo fatto la ricerca prodotta, avevo fatto tutto quello che concerne l'e-commerce, e da lì poi ho iniziato a fare i primi soldi in realtà perché ho fatto molto bene, facevamo mille euro al giorno di fatturato, quindi sono arrivati ai primi 20, 30, 40 mila euro al mese, soltanto che il metodo dell'e-commerce non mi piaceva perché i margini erano bassissimi, ho ricevuto anche problematiche di spedizioni perché importavo prodotti dalla Cina, e di conseguenza ho lasciato quel modello di business, sono andato a giocare in Serie D, quindi dalla Juve poi mi sono rotto la caviglia, ho avuto l'infortuna, sono andato a giocare in Serie D, dove ho vinto il campionato, mentre ho conosciuto delle persone all'interno del settore calcio che mi hanno introdotto ai mercati finanziari, e quindi mi sono appassionato subito e ho spostato subito il focus da e-commerce ai mercati finanziari, e ho iniziato a fare trading sui mercati, quindi a operare per conto mio, avevo il mio mentore che ai tempi era all'interno del settore del calcio, che ho conosciuto così, e multimilionario con i mercati, di conseguenza mi ha un po' guidato all'inizio, successivamente poi ho coltivato questa passione per i mercati, ho iniziato ad operare, ho iniziato a fare le mie cose, e pian piano tanta gente mi ha iniziato a scrivere, dicendo cosa fai, interessata, cosa non fai, allora ho iniziato a dare a conoscenti, amici, le prime consulenze, e da lì è nato il mio business principale, che ancora oggi esiste, e che abbiamo scalato a numeri molto importanti, soprattutto per il mercato italiano, ho iniziato a fare le consulenze, quindi prima ero io che facevo le consulenze, mi ricordo ancora che tornavo a casa dopo l'allenamento, dopo la partita, mi mettevo a fare le consulenze fino a mezzanotte, l'una, e poi stavo sveglio anche tutta la notte per studiare e lavorare, perché un conto era fare le consulenze e un altro conto era, uno, operare per conto mio, e due, costruire quello che potesse essere, quello che oggi è in realtà, l'azienda di consulenza, software e tutto il resto, ho iniziato a prendere i primi dipendenti, ho subito una truffa, dove ho perso praticamente tutto, avevo dei soldi in un wallet crypto che mi è stato rubato da un giorno all'altro, quindi ho aperto il portafoglio completamente, tutto è andato, tutti i miei risparmi, tutto quello che ho guadagnato in questi anni, da rivendere scarpe, e-commerce, tutto, e da lì ho, diciamo, la prima regola nel business per me è lavora con quello che hai, e di conseguenza… Ma hai lavorato anche sul mercato crypto o hai fatto solo mercato… Ho lavorato su tutto in realtà, ho iniziato sul mercato crypto, poi mi sono focalizzato anche su quello valutario, quindi delle valute euro, dollaro, eccetera, eccetera, sterlina, yen, indici, quindi Nasdaq, sempre 500, e poi anche azioni singole, stock singole come Apple, Tesla e via dicendo, sono stato, non dico uno dei primi, comunque ho anche comprato Tesla, per dire, quando era molto, molto, molto bassa, che conoscevo un po', sono arrivato a conoscere Elon Musk, piuttosto che le sue iniziative, allora col poco capitale che avevo in realtà. I guadagni principali sono stati con le crypto inizialmente, per il mercato rialzista che c'è stato, e poi mi hanno rubato praticamente tutto, quindi ho ricominciato da zero, e da lì ho aperto quella che oggi è la mia azienda, consulenza, formazione, software, ora siamo più di 35 persone che ci lavorano ogni giorno, magari avete visto sui giornali anche qualcosa riguardante questa attività qui, e adesso sono qui a Dubai, nel senso che ho lasciato il calcio per diversi motivi, e ho fatto la scelta finalmente di farlo, prendere il passo è comunque una scelta abbastanza complicata da quel punto di vista. Ma quanto ci hai messo a prendere questa scelta di abbandonare il calcio? Come sei arrivato a questa scelta? Perché? Cosa ti ha spinto a farlo? Essendo che comunque si parte fin da molto giovani a giocare a pallone, è una passione che si coltiva con gli anni, arrivare comunque al professionismo, solitamente all'obiettivo di un ragazzo giovane, come si passa da quello a dire ok adesso basta, ora faccio business, lascio il professionismo per fare... Allora, sì, è una questione di indipendenza, cosa vuol dire? Libertà, nel senso che avevo quest'idea in testa che mi frullava nella testa da ormai 15 mesi prima di lasciare il calcio, poi mi sono rotto il crociato, due menischi, tutto il ginocchio in poche parole, e allora quest'idea ce l'avevo ancora di più, e intanto lavoravo su quello che erano i miei business al tempo, ai tempi, soprattutto il business che ho ancora ad oggi, e quindi cresceva in maniera esponenziale. E mi sono reso conto che in realtà il calciatore è un dipendente altopagato, però rimane un dipendente, nel senso che anche arrivare in serie, o comunque quello che è il sogno di tutti i ragazzi dall'esterno, dall'interno è completamente diverso, il mondo del calcio non è come quello che vedono magari in tv, o allo stadio, perché quello è l'1% della vita del calciatore. Poi c'è tutta un'altra faccia della medaglia, che è quella appunto della non libertà che hai, perché sicuramente guadagni bene, sei molto pagato, soprattutto ad alto livello, cosa che in serie C dove giocavo io non era neanche quello, però non ho mai giocato per soldi a calcio, ecco, anche perché avevo gli altri business, di conseguenza avevo quella possibilità lì. Però l'ho fatto per una questione di libertà di tempo e di luogo, perché libertà economica, quella che tanti cercano, il calciatore ce l'ha perché comunque guadagni milioni in serie A, però non hai le altre due. E se non hai le altre due mi sono reso conto che hai poco, nel senso che se hai i tuoi soldi ma non puoi andare in vacanza con la tua famiglia, se non puoi decidere quando e cosa fare della tua vita, hai molto poco perché i soldi sono un mezzo per la libertà alla fine. Diciamo che per le persone comuni il calcio ti dà libertà di tempo perché l'obiezione che ti potrebbero fare è ma lavori due ore al giorno. Cosa ne pensi di cui riguarda questo? Sicuramente è un lavoro, a parte che è un lavoro e non è un gioco, perché tanti lo vedono come un gioco, ma in realtà poi arriverà una persona che vi dirà che non è più un gioco, è un lavoro ad oggi. Quindi tutto quello che vedi da ragazzo, soprattutto parlo magari a ragazzi che come me avevano la passione, ancora oggi è la passione del calcio, perché è uno sport che mi piace tantissimo. E continuo a guardarlo, a viverlo per quanto possibile. Però non è come giocare al campetto con gli amici, non è più come giocare alle giovanili. Io ho fatto le giovanili da 2-9 anni, ma non è esattamente così perché alle giovanili non è un lavoro ancora, è un gioco che potrebbe diventare un lavoro. Quando fai quello switch lì diventa un lavoro vero e proprio. Quindi a parte questo, sicuramente ti ha la possibilità di avere più libertà. Infatti io ho costruito il mio business part-time, lavorandoci part-time, perché io al mattino lavoravo, mi svegliavo sempre presto, a volte anche alle 5-6 di mattina. Iniziavo a lavorare, lavoravo fino a mezzogiorno, mangiavo, poi andavo al campo. In realtà non lavori in due ore, perché arrivi al campo, io andavo un'ora prima per andare in palestra, fare stretching, poi avevo anche gli infortuni, quindi anche la parte riabilitativa ho dovuto farla in maniera diversa rispetto ad altre persone. E poi da quando esci dal campo, probabilmente stai 4-5 ore durante le giornate. Diventa un lavoro, poi weekend, e non è tanto una questione di tempo, ma una questione di focus mentale, di stress mentale che hai, perché quando diventa un lavoro, devi performare. Se non performi, non è successo nel calcio e se non performi da una parte o dall'altra, perché il focus diviso, come avevo io, e puoi performare molto meno bene, diciamo, rispetto a quello che tutti si aspettano, perché ti hanno preso per quello nel calcio alla fine, diventa problematico, perché fai le cose fatte a metà. E quindi ho fatto questa scelta oltre a tutta la parte di libertà, perché mi sono reso conto che se hai il 50% del focus da una parte, il 50% dall'altra, fai male entrambi. E quindi io mi sono chiesto, voglio giocare a calcio tutta la vita, o comunque da qua fino a 35-40 anni, fino a quando il fisico me lo permette, senza fare business, o vuoi fare business e poi permetterti di non fare il calcio, da un punto di vista, proprio non permetterti da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di cosa voglio fare io. E di conseguenza ho fatto questa scelta, perché non vedo la mia vita senza business. Alla fine mi sono chiesto anche una cosa che ho chiesto anche a tanti miei compagni, che non si vede nel mondo del calcio, perché tutti pensano che tutti vogliono fare il calciatore per fare il calciatore. Ma in realtà quello che ho chiesto è, che mi sono anche chiesto internamente, ma tu vuoi fare il calciatore perché vuoi fare il calciatore, o vuoi fare il calciatore per quello che ti dà il calcio? Cioè ho la fame e i soldi. E dato che tante persone, soprattutto in Serie C, soprattutto per la mia esperienza, con i miei compagni, e quello che vedo anche da persone che magari hanno vissuto calcio anche a livelli professionistici molto più alti di me, giocatori di palazzo, giocatori di Serie A, tanti non hanno alternative. Nel senso che giocano a calcio perché non c'è una seconda opportunità, perché hanno sempre fatto quello, perché se escono a giocare a calcio possono andare a fare l'operario, possono andare a fare magari lavori che preferiscono fare il calcio, ovviamente. E io avevo una seconda chance, avevo una seconda alternativa, avevo una via d'uscita, ce la potevo scegliere, avevo un'opzione. E tanti non ce l'hanno, e quindi giocano a calcio. Cioè il giocatore medio di Serie C guadagnerà 2.500 euro al mese, che sicuramente sono soldi, perché è un'operario che guadagna, è più alto dello stipendio medio italiano. Però non è sicuramente quello che viene visto in televisione, la normalità del calcio. E quindi ho fatto questa scelta per vari motivi, tra cui quello che voglio fare nella vita. Quanto è stato difficile prendere questa scelta in maniera decisa? decisa, nel senso da oggi in poi so che non scenderò più in campo, non andrò a allenarmi, non vivrò più lo spogliatoio. Invece sarà, mi alzo, mi metto in scrivania, faccio le call, parlo con i clienti, studio il mercato, creo nuovi prodotti e quant'altro. Allora, è stato un processo, nel senso che se me l'avessi detto di farlo all'inizio, quando avevo questo video in testa, sarebbe stata follia per me. Però più avanti col tempo, più ti rendi conto che quello che ti dici nella testa, in realtà, è quello che realmente vuoi fare, ed è la cosa giusta per te. È stata una scelta difficile, come tutte le scelte difficili, nel breve periodo. Però sono sempre scelte giuste, quelle difficili nel breve periodo, perché soffri all'inizio, poi dopo però, ti danno ottime opportunità. ed è il motivo per cui oggi siamo qui alla fine, no? E quindi, in realtà, non pensavo di fare questa scelta qua. Anche perché, cioè, non pensavo di farla adesso. Io ero in scadenza di contratto, avevo potuto aspettare cinque mesi, scadeva il contratto, però ho detto nella mia testa, devo avere il coraggio di farla, perché alla fine ho elencato gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, no? Di questa scelta, di entrambe le vite che andavo a percorrere. E ho detto, l'unico aspetto negativo di questa vita che vivo adesso, era il coraggio di fare quella scelta lì. E quindi, stavo parlando con un mio compagno, che tra l'altro è uno dei miei migliori amici, il mio migliore amico, e una sera ho detto, basta, domani vado al direttore, gli lo dico, perché se non vuoi fare una cosa per un giorno, non devi farla neanche, se non vuoi fare una cosa per tutta la vita, non dovresti neanche farla per un giorno, no? E quindi ho fatto questa scelta, e mi sono alzato in maniera serena alla fine, perché ero convinto della scelta, no? E sono andato dal direttore, gli ho detto la situazione, gli ho spiegato tutto, come è scritto anche nei giornali, che mi ha lasciato anche interviste. La società in realtà è stata perfetta, perché non mi ha detto niente, anzi mi ha appoggiato una scelta al 100%, e poi c'è tutto il resto, mi sono trasferito qui a Dubai, e adesso sono contentissimo di dove sono, di cosa faccio, mi riempie questa vita. Cosa che prima mi sentivo un po' legato, cioè non mi sentivo me stesso, ecco. Ma quindi te l'ho chiesto anche perché vorrei far passare il messaggio a chi magari fa un lavoro da un sacco di anni, che non ama più potenzialmente, si è stancato, vuole cambiare vita, ma c'è sempre quella paura del, cosa però se lascio questo, cosa mi aspetta il futuro? Cioè cosa mi aspetta là fuori? Cosa per me è il futuro sostanzialmente? C'è tanta paura, no? Certo. Quindi qual è, cosa ti senti di dire a queste persone, visto che tu hai vissuto questa esperienza e non hai lasciato un lavoro da operaio, oppure un lavoro in studio, in banca e quant'altro, hai lasciato comunque un lavoro che ti dava un po' di tempo, per cui hai lavorato tantissimi anni per cambiare totalmente vita. Quindi qual è il consiglio che dai a una persona che vuole cambiare? Allora, principalmente devi darti un'opzione, nel senso che se hai paura di quello che c'è, tutti abbiamo paura del futuro, no? Nel senso che la nostra mente si chiama future pacing, no? Ci facciamo mille previsioni sul futuro, quello che sarà, quello che non sarà, e sono io il primo a farlo. Io ho fatto questa scelta qua perché comunque mi ero costruito qualcosa nel mentre, cioè non l'avrei fatto se non avessi avuto altro. Per questo le persone che ad oggi lavorano ma sono scontente nella loro vita perché il 90% non ha libertà economica, di tempo e di luogo, non ne ha neanche una di queste tre. e io penso che la vita sia di più di lavorare dalle otto di mattina alle otto di sera per qualcun altro per prendere uno stipendio che magari non ti soddisfa nel senso che io faccio l'imprenditore e ero dipendenti e sono io il primo a spronare loro nel fare di più e nel acquisire competenze che alla fine è quello che manca alle persone e le competenze per costruire qualcosa di fuori mentre lavorano quindi hanno la sicurezza di farlo per poi un giorno mollare quel lavoro lì perché la società la realtà in cui tanta gente vive perché ha visto la realtà è formata da ovviamente persone che ti stanno intorno le tue esperienze cosa hai vissuto ti porta a pensare che quella sia la normalità vivere per lavorare fino a che non vai in pensione e fino a che purtroppo con pochi soldi con poco tempo dedicare la famiglia però io mi sono detto la vita è una ho la possibilità di farlo perché me la sono costruita questa scelta col tempo e lavorando tanto anche di notte cosa che tutti possono fare perché ovviamente è una cosa che o vuoi o non vuoi e quindi chi non è scontetto deve cambiare sarà doloroso all'inizio sì però è più doloroso vivere una vita infelice e vivere nel rimpianto di se avessi fatto quella scelta lì mi avrebbe cambiato la vita ma non l'ho fatta e più va avanti col tempo più vai avanti col tempo più è difficile fare la scelta perché poi responsabilità diverse e soprattutto peggiore è la situazione in cui ti trovi perché se adesso hai 30 anni e non fai questa scelta tra 5 perché procrastini tra 5 anni avrai 35 anni magari c'è la famiglia magari è un bambino magari io l'ho fatta a 21 anni che sembra assurdo nel calcio perché avrei tutta la vita avanti potevo provare a diventare un giocatore di categorie superiori ma non era quello che volevo non mi interessava più e quindi ho fatto questa scelta però sicuramente se non ti piace la vita che vivi devi cambiarla e se non sei tu a cambiarla sarà la tua testa a farlo se il tuo pensiero è quello e lo è stato anche per me un warning un allarme il fatto che mi sono rotto il ginocchio perché mi sono rotto il ginocchio nel momento in cui non volevo più giocare a calcio e quindi la mia testa era l'altra parte ed è stata una conseguenza penso sono convinto perché non ho mai avuto infortuni prima di quel momento lì praticamente e poi da lì continui infortuni uno di tolato sarei arrivato in Serie A non lo so sarei presuntosa a dirgli sì e ognuno fa il proprio percorso sarei stato felice a giocare in Serie A è una domanda che mi sono chiesto tante volte sono convinto di no perché per una questione di libertà che ho detto prima indipendenza libertà se è un'altra occasione è un'altra opportunità di vivere la vita come sto vivendo adesso perché non farla per paura di cosa nel senso dell'opinione degli altri magari del coraggio di farlo ma la vita è mia la vita è una ho fatto la scelta apposta ma invece parlando di del secondo percorso nella seconda parte della tua vita la parte imprenditoriale credo che sia stato non sia stato sempre facile sempre che il risultato non sia arrivato sempre in maniera immediata raccontami questo percorso cioè sì ok iniziato da zero mentre giocare a calcio quindi part time però come arriviamo a quello che abbiamo letto sui giornali quindi come arriviamo ad avere un'azienda con svariati collaboratori con un fatturato che supera il milione come siamo arrivati anche addirittura a collaborare e dare consulenza a delle aziende allora tanti pensano anche gente comunque a me vicina ha fatto i soldi facili no magari e quindi ha smesso di giocare a calcio piuttosto che i soldi facili non esistono da nessuna parte nel senso che dall'esterno può sembrare così che sia facile anche il percorso imprenditoriale che ha avuto ma in realtà è pieno di sofferenze come tutto nella vita cioè io penso che il prezzo da pagare del progresso e del miglioramento sia il dolore la sofferenza l'ansia le cose negative soprattutto e quindi più cose negative ho avute nella vita più successo puoi avere secondo me è stato molto difficile perché perché non ho avuto una persona che mi seguisse un mentor proprio da un punto di vista imprenditoriale quindi ho fatto sempre da solo da quel punto di vista sbagliando capendo gli errori riprovando e ci ho messo il mio percorso imprenditoriale praticamente è stato molto lento nel senso che ci ho messo un anno e mezzo due a vedere i primi soldi perché non avevo le competenze il business non è come il calcio dove c'è talento cioè se metti Messi e metti me a giocare vedi la differenza da un punto di vista di talento e quello non puoi ce l'hai o non ce l'hai non puoi costruirlo nel business puoi costruire tutto perché puoi costruire le competenze che hai e in base alle competenze poi costruisci qualcosa se uno non ha le competenze non può fare business se uno ha le competenze può fare qualsiasi business e quindi io poi ho fatto consulenza in business in qualsiasi nicchia in qualsiasi mercato avendo ottimo successo per questo motivo qui perché mi sono concentrato non sul risultato dei soldi ma sul miglioramento costante della persona e della persona che devo diventare per raggiungere quei risultati lì e quindi questo percorso mi ha permesso poi di avere le competenze per fare questo tipo di aziende e costruire quello che ho fatto e come hai costruito questo chiamiamolo pacchetto di competenze che ti stai portando questo bagaglio di competenze che ti stai portando dietro e che ti ha aiutato ad arrivare dove sei e qual è la tua routine per continuare a migliorare da questo punto di vista? allora l'ho costruito e io mi sono sempre formato da per quanto possibile perché comunque col calcio non mi sono mai potuto muovere perché non avevo le libertà di luogo comunque mi sono sempre formato con consulenti e persone estere americane principalmente ma in Italia non ho mai fatto una consulenza in Italia in realtà non perché penso che l'Italia non abbia persone di valore ma perché penso che l'America sia molto più avanti rispetto a noi e chi ha successo in Italia è perché copia in America in poche parole e quindi come ho acquisito le competenze le ho acquisite studiando leggendo ho letto più di 300 libri negli ultimi 4 anni tra libri fisici e audiolibri perché? perché ci sono tantissime persone che magari oggi non ci sono più ma hanno lasciato qualcosa tutte le loro conoscenze che hanno acquisito nella vita e quindi io sarei stupido a non prenderle e non farle mie come c'è questa frase che la differenza tra uno che non legge e uno che non sa leggere non esiste hai preso di più dai libri o da quelle consulenze anche se mi hai detto che non hai avuto mentori particolari ma dalle consulenze che hai avuto in America cioè qual è il mezzo che ti ha dato qualcosa in più? ma sicuramente più specifico la consulenza nel senso che tu hai un problema che vedi da me e io te lo risolvo questo è come funziona i libri devi leggerne tantissimi per capire quella cosa che ti fa la differenza e io tra tante persone per dire cosa fanno ne leggono 10 e poi dicono non funziona perché non ho mandato niente non ottengo ancora risultati però devi leggere 100 per avere quel libro quella pagina del libro che per la tua situazione attuale ti fa la differenza invece da consulenza paghi e quindi pagando molto di più rispetto a un libro hai una cosa molto più personalizzata su di te quindi ti dà la possibilità di uno rapportati con persone di un livello molto più alto rispetto a te per quanto vuole l'imprenditoria o il campo dove fai la consulenza e due ti risolvono il problema che tu gli poni quindi è molto specifico e magari anche tutto il loro sapere che hanno acquisito dei libri lo possono trasferire alla tua situazione o ad altre consulenze che hanno fatto quindi è esponenziale quella parte lì ma invece se dovessi dirmi quali sono le tre o le cinque aspetti fondamentali che ti hanno aiutato ad arrivare dove sei oggi cioè proprio nella pratica nel business cosa cioè la parte di vendita è stata la parte dove sei riuscito ad esprimerti meglio e quindi con le tue skills di vendita hai ottenuto i ritornati risultati oppure l'organizzazione dell'azienda oppure l'airing allora il marketing sostanzialmente ci sono cinque skills principali poi ho fatto un caso studio dove vado a guardarle tutte come le utilizzate io per la mia azienda traffico offerta vendita prodotto e amministrazione che vuol dire poi c'è tutta la parte ovviamente di organizzazione dell'azienda di prendere dipendenti formarli quindi c'è anche la parte di assunzione e formazione aziendale questi sono i sette pilastri se vogliamo chiamarli così dell'azienda diciamo che ho fatto anche una scaletta perché le competenze le acquisisci col tempo e sei forzato ad acquisirle in base a livello in cui sei se parti da zero se non sai vendere non puoi fare azienda se non sai fare un'offerta non puoi fare azienda e se non sai deliverare un prodotto non puoi fare azienda nel senso che soprattutto le prime due perché puoi anche deliverare prodotti cioè consegnare prodotti di terzi quindi non per forza di avere un tuo prodotto non per forza di metterci a faccia come faccio io comunque soprattutto con l'e-commerce all'inizio vendita offerta cioè saper vendere qualsiasi cosa a chiunque e creare un'offerta dove la gente si sente stupida a dirgli no questo è il mio motto e questi sono i due skill principali per arrivare ai primi 10 15 20 mila euro al mese poi ovviamente c'è il traffico perché dopo che la macchina funziona la macchina di monetizzazione funziona si chiama così il tuo fatturato è direttamente proporzionale a quanto traffico metti cioè a quanta gente guarda la tua offerta più gente guarda la tua offerta più gente converti più gente vendi più gente arrivi esatto e quindi poi devi acquisire una volta per arrivare dai quei 20 30 mila euro al mese 15 20 mila euro al mese fino ai 50 il traffico ok una tipologia di traffico che è gratis tra l'altro quello organico quella che stiamo facendo adesso per esempio i video gratis che dai alle persone e e poi quello che mi ha permesso di fare il salto da un punto di vista aziendale è il traffico a pagamento questa cosa qui mi ha permesso da gennaio 2023 che facevo 70 mila euro con la mia azienda di fatturato ad arrivare a più di 209 mila in un mese perché? perché funzionava tutto ho messo la benzina alla macchina che già funzionava e la macchina è partita in maniera importante e una cosa fondamentale che ho imparato è studiare la mente come funziona la mente penso sia una delle cose più importanti perché tanti usano l'1% del cervello della potenzialità del cervello non perché siano stupidi o altro perché nessuno gliel'ha insegnato se riesci già a utilizzare il 2 il 3% riesci a capire che tu vivi in una realtà che non è una realtà oggettiva del mondo ma è la tua soggettiva quindi se espandi il perimetro della tua mente e questo racconta una storia che riguarda consulenze e questo aspetto qua se tu espandi i perimetri riesci a capire concepire cosa è possibile e quando concepisci quello pensi in maniera diversa e dato che i tuoi pensieri determinano le tue azioni le tue azioni determinano i tuoi risultati cambi le azioni di conseguenza e risultati voglio raccontare questa storia perché il giorno che mi sono rotto il crociato il giorno dopo sono andato in Albania in Albania a fare questo mastermind era l'unica volta dove mi sono mosso dall'Italia per il calcio perché ci avevano dato dei giorni liberi e quindi ho preso il permesso per andare diciamo e a questo mastermind dove c'era gente molto più forte di me da un punto di vista politico io stavo facendo dai 10 ai 15 milioni al mese che in base alla mia realtà parlando di quello era tantissimo perché io avevo 19 anni e vedevo la gente intorno a me che faceva 1500 1800 euro al mese magari della mia età neanche guadagnavano niente sì nel calcio e anche fuori magari non guadagnavano tanti soldi le mie età a 19 anni la gente stava ancora studiando e quindi non viveva a casa magari io ero indipendente da quel punto di vista facevo comunque bene per la mia realtà arrivo lì mi siedo al tavolo una sera la prima sera a cena con questa persona che aveva una maglietta strappata in ciabatte a cena mi siedo lì e iniziamo a parlare parliamo e gli chiedo cosa fai cosa non fai gli dico cosa stessi facendo gli dico sei ancora agli inizi sì sì e tu cosa fai gli chiedo e lui mi fa io quest'anno ho un portafoglio di commerce che chiude il fatturato di 60 milioni all'anno quest'anno e porto la mia azienda di infoprodotti quindi corsi consulenza formazione da un milione a due milioni al mese e lì ho avuto quello switch mentale dove ho detto c'è questo quello che vedo davanti a me e non è più intelligente non è più bello non è più non ha talento perché ci ho parlato e non mi sembra una persona un genio per fare questi numeri cosa ha diverso da me niente però fa questi numeri e io non pensavo fosse possibile fare un milione al mese non pensavo fosse possibile fare neanche 100 milioni al mese però come tutti gli obiettivi sono irraggiungibili fin quando non li ragioni e questa cosa qui mi ha fatto ampliare la mia realtà quello che pensavo fosse possibile realizzare nella vita perché poi mi giro e parlo con un'altra persona allo stesso evento e questo faceva mezzo milione al mese magari e poi quell'altro aveva un patrimonio di mezzo miliardo che era un organizzatore ed ero circondato da 50 imprenditori e io ero il più giovane però 50 persone che facevano molto ma molto ma molto ma molto di più di quello che io pensavo fosse possibile e sono tornato a casa e oltre a tutte le nozioni strategiche e tattiche che ho imparato sono rimasto sbalordito da questa cosa qui e mi sono reso conto fare indipendente per 1500 al mese non è la realtà che voglio vivere perché? perché io ho visto queste persone e nessuno è un genio nessuno è messi nel calcio ha solo studiato e ha solo usato una leva cioè il business che ti dà stacca il tempo dai soldi e che ti dà la possibilità di lavorare con il tempo degli altri io adesso ho 35 persone magari e di conseguenza a 20-300 persone se io posso lavorare 10 ore lavorano 10 ore io al giorno è come se lavorassi 350 ore quindi ovviamente produco molto di più e quindi è una leva infinita e con le competenze poi pian piano mi sono posto voglio fare più di 100.000 euro al mese che sembravano irraggiungibili quando ti poni in obiettivo sembra sempre irraggiungibile e poi dopo ne fai 20-30-40 arrivi a 100 e dici fare quella scelta di prendere e partire toglierti ogni dubbio ogni barriera e dire funziona fa per me non fa per me no prendo vado e lo scopro lì investo perché penso che sia stato un mastermind visto viste le persone che erano presenti anche importante dal punto di vista tutto quello che avevo ok tutto quello che avevo era un mastermind dove potevi entrare solo con invito quindi non potevi oltre a pagare quindi pagavi ma solo se ti invitavano solo 50 persone avevamo un resort folli penso uno dei più grandi resort dell'Albania se non il più grande mi sono buttato perché le conoscenze non di persone le competenze sono l'unica cosa che nessuno ti può togliere e quindi se investi sempre su quelle diventi una persona che può raggiungere cose che magari due anni fa un anno fa sembravano folli è solo una prova evidente perché non pensavo fosse possibile fare 100 milioni al mese adesso se faccio meno di 100 milioni al mese mi viene male cioè c'è qualche problema è il mio standard quando il tuo obiettivo diventa il tuo standard vuol dire che sei migliorato come persona ok e quindi mi sono buttato perché ero convinto del valore cioè mal che vada cosa mi capita le competenze per fare quei soldi le ho le ho acquisite da solo o comunque le ho acquisite e perdo tutto però guadagno in competenza cioè i soldi il rapporto con i soldi i soldi sono un mezzo come ho detto prima quindi i soldi sono un mezzo che ti permettono di migliorare il tuo personaggio all'interno del gioco che è la vita quindi cosa cosa diresti a una persona che oggi sta facendo il percorso che magari hai fatto tu prima però pensa ma io online posso studiare qualsiasi cosa è tutto gratis è tutto risporibile che è la verità da un certo punto di vista perché io in primis ma penso anche te siamo i primi a studiare tantissimo contenutistica su youtube che è veramente una fonte di informazioni infinita ma c'è una netta differenza tra quello che vedi online e studi online e i rapporti che crei e le informazioni che scambi e quando vai c'è un evento di questo tipo esatto il fatto è che se tu pensi che online ci sia tutto per fare business in questo caso per tutte le informazioni che ti servono se ad oggi non hai raggiunto i risultati che vuoi raggiungere vuol dire che quelle informazioni non bastano evidentemente perché se le hai consumate e poi non ti hanno portato da nessuna parte vuol dire che c'è qualcosa di più ed è c'è tantissimo valore online cioè tantissime persone che mettono in disposizione le loro competenze online gratis è ovvio che io da dietro le quinte vedo anche che gratis ti do la strategia a pagamento ti do la tattica magari ti do la roadmap per arrivare lì e soprattutto in Italia c'è questa mentalità di dire ma io non compro perché tanto non mi formo perché tanto online c'è tutto non è proprio così nel senso che le informazioni che ci sono sono limitate da un punto di vista di specifica per te e se tu non hai le competenze ad oggi se tu non raggiungi risultati perché non hai le competenze appunto non c'è nient'altro in qualsiasi mercato a nicchia non cambia niente e se tu non hai le competenze vuol dire che non hai le informazioni adatte cioè non puoi sapere quello che non sai e questa è la dove io ho sempre come ho sempre ragionato cioè io non posso sapere quello che non so quindi voglio sapere il più possibile per sapere quello che non so e quello che ad oggi so è che un anno fa non sapevo per il 90% l'ho acquisito ormai pagando le persone dandomi informazione chiedendo confrontandomi qua a Dubai esci c'è la persona che fattura 500 milioni l'anno gli chiedi fai un po' di conoscenze e ti svolta business magari funziona così c'è una questione di competenze se tu non hai la competenza non puoi fare a me mancano le competenze per arrivare mezzo milione al mese che è adesso un obiettivo perché? perché se no lo farei se avessi le competenze ci arriverei non le ho e quindi non posso né insegnarle perché non le ho e quindi non insegno mai qualcosa che non ho fatto e mi mancano quindi dove le reperisco da gente che fa 500 milioni al mese quindi adesso qual è l'evoluzione di Amedeo che che vedi o che speri di raggiungere e di fare da qua al prossimo anno i prossimi tre anni i prossimi cinque anni cioè qual è il percorso ora ti sei trasferito qua a Dubai è un cambiamento importante è un cambiamento anche di ambiente cioè è importante quindi se prima a guadagnare 100-200 mila euro al mese fatturare 100-200 mila euro al mese eri tra i top nella tua nicchia del tuo ambiente oggi potenzialmente non lo sei più certo quindi quali sono gli obiettivi che sei posto perché in quanto tempo vuoi raggiungerli allora sono venuto qua anche per questo motivo qui nel senso che avere quella non quell'ansia ma quello stimolo di vedere gente che fa molto meglio di te quindi sei magari non più nell'1% italiano no? come magari potevi essere in Italia ma sei nel 20% e quindi vuoi arrivare nell'1% anche da qua dove vai è uno stimolo importante vabbè da un punto di vista generale io come approccio la vita è quella di sempre cercare sempre il costante miglioramento di me stesso perché quello puoi portare risultati quindi sicuramente da un punto di vista imprenditoriale si parla di numeri da un punto di vista fisico si parla di salute da un punto di vista relazionale si parla appunto di amicizie relazioni quindi io penso che il successo non sia soltanto di numeri imprenditoriali nel senso che i soldi sono il mezzo quindi il mezzo per cosa? per essere libero per vivere la vita che vuoi vivere quindi per regalare emozioni per migliorare la tua salute la sicurezza qualsiasi altra cosa le comodità quindi da un punto di vista imprenditoriale sicuramente penso di aver raggiunto se non il massimo quasi del mercato italiano perché è un mercato di 60 milioni di persone complessive contando anche magari i bambini piuttosto che persone a cui io non posso vendere niente non è totale esatto non è il mio target e soltanto nell'ultimo anno avremmo raggiunto 30 milioni di persone con la pubblicità quindi ha un limite il mercato se sei top di mercato poi devi andare o aprire un altro business fare altro e prendere aiutare le persone in maniera diversa oppure cambiare quindi andare internazionale avere poi un'azienda multinazionale no? e questo è sicuramente un obiettivo ovviamente continuare a fare bene qua a Dubai ma con il mercato italiano poi andare nei mercati esteri e adesso il 26 febbraio lancerò quello che è una cosa rivoluzionale che non ho mai fatto è che sono molto contento di fare per la prima volta perché mi sono detto ok ma adesso che hai raggiunto comunque una certa tranquillità da un punto di vista anche economico no? qual è il modo principale che puoi aiutare la Medeo di come puoi aiutare la Medeo di 3-4 anni fa ad iniziare ad accorciare quel processo di stress dolori che è stato di sofferenza di tempo buttato via come puoi aiutare queste persone qui e quindi soprattutto come puoi aiutare magari persone che hanno la propria attività no? ma lavorano comunque come dipendenti cioè sono dipendenti dalle loro attività che è il 90% dei libri professionisti italiani e quindi aprirò questa nuova il 26 febbraio ci sarà questa nuova apertura di questo progetto dove aiuterò sia chi parte da zero ad avviare la propria attività come ho fatto io quindi capire cosa vendere come apprendere le skill di vendita come apprendere le skill che ti servono per raggiungere i vari step che abbiamo detto prima e poi anche per anzi soprattutto per i libri professionisti le persone che magari sono ferme da un punto di vista imprenditoriale che non sanno come prendere nuovi clienti che non sanno il 90% delle persone non fa neanche pubblicità in Italia non fa marketing fa di passaparola di referenze ma non funziona così il business se vuoi scalare in maniera importante cioè ci metti anni poi lavori per la tua azienda per anni io lo vedo con mio padre uguale continua a lavorare per 10 ore al giorno 15 ore al giorno quanto è schiavo dei clienti schiavo della propria azienda è vero che non fa il dipendente è un libro professionista ma è dipendente di se stesso praticamente della propria azienda e quindi acquisendo nuovi clienti strutturando l'azienda in maniera diversa come ho fatto io sia con la mia ma anche con altre realtà in altri mercati in qualsiasi mercato in realtà ormai e puoi delegare e puoi essere bravo a farlo senza pensare ed essere presuntuosi e pensare che le persone non possono fare bene il proprio lavoro o meglio di te tutte le persone in azienda lavorano meglio di me rispetto a quello che faccio io sui loro reparti perché? perché le ho formate apposta e perché fanno solo quello io dovrei fare 100 cose fatte male e loro ne fanno una fatta bene e quindi questo progetto si andrà ad aiutare tutte le persone che vogliono scalare la proprietà staccarsi dalla loro attività raggiungere fatturati molto più importanti rispetto a quelli di adesso perché ovviamente è fondamentale nel business qui l'obiettivo sostanzialmente è quello di prendere tutta l'esperienza le skills acquisite in questo percorso quindi da quando hai aperto l'azienda fino a dove stessi e mettere a disposizione delle persone che o vogliono partire da zero quindi ok voglio fare questo ma non so cosa vendere quali sono gli step che devo fare ho paura di fallire o pochi soldi eccetera le solette le azioni oppure chi ha già un'azienda e dice porca misera questa ragazza è giovane ha raggiunto questo risultato io sono 5 10 anni 20 anni 30 anni che ho questa attività ma non sono mai riuscito a portare a crescere o comunque portare a casa quello che volevo portare a casa sì perché tanti mi conoscono come trading anche sugli articoli che tra l'altro io ho parlato solo con un con un giornalista poi tutti gli altri sono a cascata però c'è scritto trading online piuttosto che mercati finanziari tutti mi conoscono così sul mercato perché hanno visto le pubblicità ma non capiscono che dietro a tutto quello c'è un'attività imprenditoriale folle cioè gestire e arrivare a gestire 35-40 persone cioè non è una roba semplice che dice vabbè ma vende corsi o formazione sui mercati e basta no e io non ho mai fatto vedere quello che è stato alla fine il lavoro degli ultimi due anni perché mi sono concentrato non più sull'operatività perché ho i miei consulenti i miei programmatori che fanno oggi quello che io facevo tempo fa ma mi sono concentrato sulla parte strategica di costruire il business perché senza il business senza il fatturato senza le vendite e non possiamo pagare la gente certo e senza una struttura non puoi scalare perché l'azienda crolla e tante persone hanno né un team di marketing né un team di vendita né un team strutturale né non sanno delegare non sanno prendere persone tutte queste competenze le ho acquisite arrivando con l'azienda a questi livelli e non ho mai parlato cioè non mi vedono come l'imprenditore nessuno mi vede come un imprenditore ad oggi soprattutto prima degli articoli poi quegli articoli è venuto fuori perché si sono chiesti cosa fa cosa va a fare uno che ha 21 anni calcio e lascia calcio professionistico però c'è tutta l'imprenditoria lì e tutte le competenze che ho acquisito non le ho mai condivise e penso che sia una cosa che possa dare un valore immenso al mercato ancora più di quello che adesso quindi diciamo che il focus della tua azienda di formazione si sposterà da quelli che sono i mercati finanziari all'imprenditoria oppure hai deciso di creare un ibrido o qual è la strategia il positioning che prenderà la tua azienda allora ci sono due tipi di business business di capitale e business di cash flow il trading e i mercati finanziari sono un business di capitale cosa vuol dire hai bisogno di capitale e puoi ottenere un ritorno su quel capitale lì però un capitale di partenza ne hai bisogno e hai pro e contro nel senso che uno sei tu col tuo computer non devi gestire persone non hai personale non hai niente connessione internet computer e lavori e i contro sono che non è costante nel senso che non è come un'azienda che ogni mese ti dà da mangiare perché il trading non è così che ti dice che così non funziona così ok quindi c'è il mese che guadagni mille il mese che guadagni duemila il mese che guadagni cinquemila il mese che perdi mille quindi non è costante non puoi fare previsioni facendo trading ok e questo è bisogno di capitale il business di cash flow invece è avere un'azienda un'azienda che vuol dire un'attività che faccia 5 10 15 miliardi al mese è sempre un'attività che tu sei un libro professionista che vendi sei un freelancer è un'attività sei un libro professionista è un'attività sei una persona che parte da zero e ha competenze da vendere o vuole vendere prodotti di terzi è un'attività che ti dà la possibilità una stabilità e una costanza completamente diversa e con i pro e contro io ho deciso di fare imprenditoria perché penso che abbia molti più pro questo aspetto qua rispetto che almeno trading trading operativo però c'è tanta gente diamo la possibilità di scegliere nel senso che non escluderò l'altra parte perché comunque penso sia una scelta valida per chi vuole iniziare per chi non vuole fare un'attività principalmente d'altra parte deve anche convivere con quello che è la realtà dei fatti del mercato che ci sono tante variabili che non dipendono da te perché i mercati finanziari non dipendono da te ci sono informazioni che non puoi conoscere news insider tutte queste cose non puoi controllarle con la tua azienda attività sei tu con i tuoi dipendenti sicuramente dipende da te e puoi costruire qualcosa che ti porta molto 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 di più perché ne leva molto più alta nel medio e lungo periodo all'inizio è più difficile però d'altra parte perché devi acquisire le competenze però d'altra parte non hai bisogno di capitali che hai bisogno di qua qua oltre a formati ad acquisire le competenze che devi acquisire comunque hai bisogno di capitali di qua no nel senso che dopo che acquisisci le competenze i soldi arrivano perché i soldi sono una relazione cioè sono i soldi cosa sono valori che porti al mercato se tu porti valori al mercato il mercato ti dà soldi in poca parola e io sono partito da zero nel senso che la mia attività quando sono stato atturfato io avevo zero sul conto in banca mi ricordo ancora oggi che avevo una ragazza e andavamo al sushi per dire il sabato sera mi ricordo ancora oggi che prima di pagare guardavo il conto guardavo la carta guardavo i soldi che avevo perché non pensavo di arrivare a pagare il conto e vivevo comunque con una famiglia alle spalle che sta bene però non volevo chiedere piuttosto che mille altre questioni che non mi hanno mai portato a chiedere niente quindi anche l'attività l'ho fondata da zero ed è possibile farlo perché ci sono un sacco di possibilità ormai ad oggi partendo da zero senza capitale non ho preso investitori finanziamenti soldi da altri niente perché ti autofinanzi ci sono dei metodi dei sistemi soprattutto all'inizio dove ti puoi autofinanziare quindi non hai bisogno di capitale è un qualcosa che vuoi insegnare alle persone certo e soprattutto chi inizia perché magari chi è già avviato ha anche capitale esatto ha una sostenibilità diversa però chi inizia da zero non ha bisogno di capitale è una cazzata quello che dicono che hai bisogno di capitale per un'attività perché magari hanno in mente la Microsoft dei tempi l'Apple piuttosto che la startup che prende milioni di investitori americani che ti mettono 20, 30, 50 milioni con l'azienda con l'attività la store startup non è così cioè non funziona così soprattutto se è un'attività piccola puoi arrivare semplicemente a 10, 15 milioni al mese senza capitali zero poi ovviamente se vuoi continuare a crescere se vuoi continuare a crescere scelta che io ho fatto devi continuare ad investire quello che fai ma all'inizio tu puoi guadagnare senza un euro ma quindi sostanzialmente dopo essere trasferito qua qual è l'obiettivo di Amedeo cioè se dovessimo rifare questa intervista fra un anno quale Amedeo arriverebbe qua quale vorresti che fosse l'Amedeo arriverebbe l'Amedeo che ha aiutato migliaia di persone a raggiungere l'indipendenza di luogo di tempo e finanziaria tramite costruire un'attività che funziona un'attività scalabile un'attività che gli dà da mangiare alle persone tramite le competenze cioè le competenze sono la cosa che non perderai mai soldi investire in competenze mai che siano libri che sia formazione niente e io voglio essere la persona che accelera il processo di formazione delle persone dei clienti perché uno che arriva da me ha due strade in poche parole una farò da solo che non è sbagliato io ho fatto da solo praticamente quindi prendi 300 libri te li leggi sbagli perdi soldi perché io anche mi hanno truffato per errore mio quindi fai questi errori torni a zero diverse volte oppure la seconda strada è quella di affidersi a una persona che ha fatto molto di più di quello che magari è il tuo obiettivo perché se uno ha fatto se il suo obiettivo è quello di fare 15.000 euro io non ho fatto più di 150 voglio dire 15.000 euro non voglio essere presuntuoso anzi ma è molto semplice dopo che le competenze dopo che la vedi guardando indietro dico cioè come ho fatto a non fare ma sì ma non è un discorso di sminuire i 15.000 euro esatto sostanzialmente è come se una persona oggi che fa un milione al mese vede i 150 200.000 euro di amendevo e dice è abbastanza facile raggiungere questi anni perché le sue competenze che lo hanno portato al milione a superare il milione al mese lo portano a dire quello stage per me oggi oggi è molto semplice esatto è un processo ai tempi non lo è esatto cioè ai tempi non lo era io ho fatto una fatica immensa arrivare a primi 10.000 euro al mese in mese cioè anni anni di studio senza vedere i risultati ed è un processo che ti toglie amicizie relazioni in realtà anni di vita perché io ho 21 anni voi vedete magari i milioni di fatturato vedete la vita a Dubai vedete l'orologio del 100.000 euro vedete tutto questo ma non vedete quello che ho sacrificato per arrivare qua no? e si può evitare nel senso perché se tu hai qualcuno che ti può dare una mano e ti può aiutare è un acceleratore cioè prendi la non dico la scorciatore perché il lavoro devi farlo sicuramente le competenze devi acquisirla ma io ti dico esattamente quello che devi fare cioè è molto più semplice no ma infatti dobbiamo puntualizzare che quando si dice online è facile in 30 giorni 90 giorni sicuramente con l'accompagnamento di una persona che lo ha già fatto è possibile in 30 giorni 90 giorni ottenere risultati che magari non hai ottenuto nei 12 mesi precedenti o da solo però non vuol dire che sia semplice esatto niente i soldi facili non esistono esatto cioè come andare da un personal trainer perché ci vai da un personal trainer non pensi che il giorno dopo ti faccia competere per il mister Olimpia ovviamente esatto però è un acceleratore dei risultati perché ti dice esattamente quello che devi mangiare ti dice esattamente quello che devi fare in palestra ti dice esattamente come ti devi comportare e che esercizi fare che tecnica usare cose che magari da solo impareresti comunque ma ci metti anni di esperienza e quindi stessa cosa in qualsiasi ambito e non è che se cambia la palestra tu non puoi fare le stesse cose che ti hai insegnato cioè le competenze rimangono le stesse cambi palestra cambi nazione cambi dieta ma tu le competenze le hai cambi mercato nell'imprenditoria cambi business cambi nicchia fare la stessa identica cosa perché hai le stesse competenze quindi questo è sicuramente la gente non ottiene risultato perché non è la persona che può ottenere quel risultato perché non ha le competenze che possono ottenere quel risultato lì a volte diciamo che le persone comuni la massa dà sempre la colpa a qualcun altro per cui cioè il motivo per cui non hanno raggiunto quel determinato risultato è causa di qualcun altro quindi non si prendano quella determinata responsabilità e dire no aspetta forse non sono io che ho quelle determinate competenze o le competenze sufficienti a raggiungere quel risultato sì lo facciamo tutti questa cosa ce la faccio anche io magari per arrivare allo successivo però una cosa che ho imparato è che più lucidamente riesci a guardare in faccia la realtà dei fatti e assumerti le responsabilità dei risultati che ottieni più risultati puoi ottenere e in maniera molto più veloce nel senso che il tuo successo è determinato da quanto ti responsabilizzi e io conosco persone che vent'anni fa erano nella stessa situazione di oggi ma perché perché continuano a creare alibi e non pensare di migliorarsi per raggiungere risultato la realtà dei fatti è la realtà del mercato che il mercato non ha emozioni e che è quindi lucido è che ti dà compensi per il valore che porti se tu non porti valore non ti dà compensi e non puoi portare valore se non sei una persona di valore se non hai valore da dare non puoi portarlo e l'unico modo per avere valore essere una persona di valore essere una persona di valore vuol dire avere delle competenze che tu condividi col mercato e il mercato ti dà indietro soldi perfetto mi devo allora ti ringrazio per aver condiviso con noi quella che è la tua storia che avevamo già intravisto sui giornali abbiamo cercato di intuire qualcosa però abbiamo preferito chiederti di approfondire e di togliere un po' di domande risolvere un po' di dubbi domande delle persone che hanno letto questi articoli ti ringrazio e spero fra un anno di rincontrarti di rifare questa intervista con alle spalle qualche migliaio di persone che sostanzialmente hai aiutato in questo percorso grazie del tempo e di tutto spero anch'io ma sono convinto perché se fai le cose che devi fare i risultati arrivano qui ne